si parla di questi lodi, di queste riforme, ma non ce ne frega niente di quelli, al cittadino interessa la certezza della pena, cioè tu mi hai ucciso il figlio, la moglie, la cognata, non so chi, so che almeno dieci anni ci starai in prigione, mi hai derubato, sei stato condannato a 4-5 anni, so che 4-5 anni starai in casa, non che ti hanno dato 5 anni, il giorno dopo siamo insieme al bar a prendere il cappuccino, la certezza della pena, quello che è stato dato, quindi altri provvedimenti che sono stati fatti, non per umanità, non gliene frega niente dell'umanità, del rispetto delle persone, si fanno i provvedimenti perché non ci sono posti in carcere, ecco la verità, quindi costruire nuove carceri, costruire nuove carceri, costruire luoghi per far lavorare le persone e tenere realmente in prigione, quanto è la condanna? 16 anni e stai 16 anni in prigione, stai 20 anni, 31 anni e 6 mesi, 31 anni e 6 mesi, stop, ecco la vera riforma che vorrebbero i cittadini, tutto il resto non ce ne frega niente ai cittadini, non gliene frega niente di proteggere questo o quell'altro o quella situazione, se non proprio ad persona ma alla tribù, al gruppetto, alla casta, perché poi sono tutti provvedimenti ristretti, alla gente interessa questo, se siete dei forcaiotti, ma no, la giustizia è questa, se no non è giustizia, è un imbroglio, è un'altra cosa, è un prendersi in giro, è un favorire il delinquere, non il reprimero, che poi chi è in prigione, chi ha i lavori, sia rispettato come persona, non debba subire nessun tipo di maltrattamento di violenza, è sacrosanto, ma dentro ci devi stare tanti giorni, tante settimane, tanti mesi, tanti anni che il giudice ti ha condannato, non un'ora di meno, finché non ci sarà questo, in Italia di fatto non c'è giustizia, c'è la scimmia della giustizia, l'immagine distorta, l'imitazione, la maschera della giustizia.